Oggi andrò a parlare di Cedify, un incubator e un launch bar per giochi di blockchain gamers e ho parlato un paio di volte nei video precedenti del potenziale di giochi play to earn basati su blockchain e che potrebbero avere una crescita enorme anche in futuro. E Cedify è posizionata per trarre profitto da tale crescita creando una piattaforma per il lancio e anche per la crescita di nuovi giochi e per fare riferimento il valore del mercato dell'industria dei giochi ha raggiunto un massimo storico lo scorso anno con 159 miliardi di dollari e più di un terzo della popolazione globale ha giocato a qualche forma di gioco con 2,7 miliardi di giocatori in tutto quanto il mondo soltanto nel 2020 e nel 2021 si prevede che questi numeri crescano fino a 2,81 miliardi di giocatori e un valore del settore di 189 miliardi di dollari. E all'interno dell'industria dei giochi uno dei settori più promettenti in rapida crescita è quello dei play to earn e molti di questi sono basati su blockchain. Tuttavia questi tipi di giochi stanno affrontando qualche rispinta da parte delle principali piattaforme di venda di giochi come per esempio Steam che ha recentemente bandito i giochi basati su blockchain dalla propria piattaforma e Cedify Launchpad ha già permesso a numerosi giochi emergenti basati su blockchain di raccogliere fondi attraverso offerte di giochi iniziali noti anche come IDO. E ragazzi prima di cominciare come sempre bentornati a tutti, assicuratevi di iscrivervi e di fare anche la campanella così da non prendere altri video come questo, assieme a tutto il resto che pubblico sul canale. E inoltre ho investito anch'io in Cedify e sono un grande fan degli NFT, sono anche un grande fan dei giochi basati su blockchain e penso che abbiano un grande e brillante futuro davanti. E quindi tratterò anche di molti degli IDO che verranno lanciati su Cedify. E quindi se iniziamo col dare uno sguardo al sito web di Cedify, diciamo che possiamo anche vedere che è abbastanza semplice e intuitivo e nella parte superiore ci sono alcuni link e articoli medium che spiegano tutto ciò che dovete sapere per prendere parte ad ogni IDO sulla piattaforma. E ci arriveremo tra un minuto, comunque se scrolliamo invece verso il basso possiamo vedere anche alcuni degli IDO che sono eminenti e quanto tempo ci vorrà prima che diventino reali. E se clicchiamo su uno di questi possiamo anche vedere maggiori dettagli sulla prossima venda del token e come una breve descrizione anche di ciò che racconta e cosa fa anche il progetto e i suoi obiettivi. E possiamo anche vedere il prezzo per la venda del token, nonché le dimensioni della locazione che si tratta appunto di una venda privata o pubblica o le informazioni anche del token stesso e come possiamo vedere dalla descrizione di questa particolare venda imminente il prodotto non è ancora un gioco reale ma piuttosto è un progetto incentrato sulla creazione di infrastrutture per i metaverse e gaming e NFT e questo è perché Cedify consente non solo ai progetti di gioco ma anche a prodotti relativi ai giochi come per blockchain in quanto sono devoti a questo tipo di ecosistema. E se torniamo alla pagina principale del sito e scorriamo ancora un po' più verso il basso possiamo anche vedere alcuni degli IDO che sono stati completati e quanto hanno raccolto. È già stato lanciato un buon numero di prodotti e molti di loro hanno raccolto diversi centinaia di migliaia di dollari attraverso il loro IDO il che dimostra che il sistema funziona come previsto e ora possiamo anche poter prendere parte a questi imminenti IDO per voi stessi e per primi investitori appunto in questi progetti se volete appunto investirci. La prima cosa che dovrete fare è sottoporvi a un rapido processo di KYC. Cedify è conforme alle normative quindi se vivete nei paesi in questo elenco, incluso gli Stati Uniti allora non sarete in grado di prendere parte dell'IDO sulla piattaforma e c'è una guida passo dopo passo per come completare il processo di KYC qui sul Medium. Cedify se avete qualche problema potete contattare o guardare questo Medium e tutto ciò di cui avete bisogno appunto è la prova d'identità dell'indirizzo per avere più di 18 anni. Dopo aver completato il KYC potete semplicemente passare alla scelta di un IDO a cui volete semplicemente partecipare. Come abbiamo visto in precedenza ce ne sono diversi già pronti per il lancio nelle prossime settimane tra cui potete scegliere. Una volta scelto il prodotto in cui si desidera investire sarà necessario assicurarsi alcuni token di S-Fond per aggiungere il livello di investimento che si desidera intraprendere. E quindi l'elenco dei tier è stato mostrato qui e ci sono diversi livelli che vanno da 250 token fino a 100.000 token e quasi tutti quanti livelli hanno una locazione garantita ma a causa della grande crescita della base di utenti per Cedify il numero è basato su una lotteria per le locazioni perché altrimenti la locazione garantita sarebbe troppo piccola per essere davvero importante per il primo tier. E se vi trovate nel livello 6 e superiore ottenete anche l'accesso ai round privati e per quanto riguarda invece il livello 9 ottenete l'accesso ai round seed e il token di S-Fond è un token creato su Binance Marchain e potete acquistarlo su PunkySwap o se preferite un exchange centralizzata potete acquistarlo su KuCoin e una volta acquistati i token dovete assicurarvi che siano nello stesso portafoglio che avete elencato durante il processo di KYC e poiché questo è il portafoglio che dovete utilizzare per interagire con gli smart contracts di Cedify e se volete sapere o essere preparati al meglio potete completare tutti quanti questi passaggi nei giorni prima della pubblicazione dell'IDO così nel giorno dell'IDO potete semplicemente completare l'acquisto e basta. Questa è la parte facile insomma del processo quando insomma l'IDO è live accedete semplicemente al sito web di Cedify dovete semplicemente poi collegare il vostro portafoglio una volta che avete effettuato l'accesso al sito di Cedify e scegliete il pool per il token su cui desiderate investire quindi inserite semplicemente il numero di token che desiderate acquistare fino all'importo massimo consentito per il vostro investimento e poi dovete semplicemente approvare la transazione e i token che acquistate verranno quindi inviati al vostro portafoglio una volta che sarà elencato nell'index e in base a qualsiasi programma di vesting stabilito anche dal team e questo qua è tutto ciò che dovete sapere per partecipare a un'IDO e quindi ora diamo un'occhiata a alcuni dei prodotti più eminenti per esempio abbiamo Unknowledger che è quello che abbiamo brevemente esaminato in precedenza e si descrivono come una piattaforma globale che mappa e monetizza e distribuisce risorse digitali in Web3 senza soluzione di continuità attraverso il metaverse e giochi di NFT e l'IDO per il token di ACK nativo sarà attivo tra circa un paio di giorni e dopo Unknowledger il prossimo IDO è Gaia Everworld un gioco plateware in cui i giocatori possono alle varie combattere personaggi rappresentati come NFT che possono anche essere scambiati sul marketplace nativo e l'IDO di questo token è già tra poco più di una settimana sarà attivo quindi sì avete anche poi il token e l'IDO di GGG e questo qua è Good Games Guild che è un DAF focalizzato sulla creazione della più grande economia mondiale virtuale acquistando e affittando NFT spesso utilizzato anche nei giochi patati su blockchain e ci sono anche IDO eminenti per quanto riguarda TryHards e SpinTop e TryHards è uno sparatutto patato su NFT costituito su Polygon e SpinTop sarà un gaming hub quindi in cui poi i giocatori possono comprare fare un exchange di NFT e molto altro ancora e se volete sapere di più su CDify o prendere parte in uno di questi IDO vi lascerò il link nella descrizione del video e spero come sempre ragazzi che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa piattaforma e come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti